Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations Che è successo? Capo, il saponoriente di Jill e Parker L'indagine li ha portati in mare aperto Eh, ma abbiamo perso le tracce della nave E' qui Jackass, ho le coordinate della nave, le sto inviando Non è lontano Sono Chris, ho ricevuto le coordinate Non c'è più tempo Andiamo O'Brien, ci andiamo subito Grazie Dove saranno? Ovunque, dai cominciamo Hai un piano per trovarli? No, guarderò in ogni stanza Fantastico Super E se quelli dell'avvento ci trovano prima? Noi li catturiamo e li interroghiamo. Noi li catturiamo. 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 Grazie a tutti. 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 Continua a sparare. Grazie a tutti. 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 Nessuno in casa. Dove sei andata? Jill.